Ben trovate l'appuntamento con l'informazione, oggi è la giornata della riflessione, silenzio assoluto per quanto riguarda le amministrative, ieri sera, anzi a mezzanotte sono chiusi i comizi e quindi la campagna elettorale. Domani c'è la giornata di voto dalle 7 alle 23 alle urne, sono chiamati i cittadini, gli elettori per esprimere il proprio voto, il rinnovo del Consiglio Comunale ed elezione diretta del sindaco. Facciamo il punto della sezione in questo servizio. Chiusa la campagna elettorale con gli ultimi comizi, oggi è il giorno riservato alla riflessione per gli elettori chiamati alle urne domani per eleggere il sindaco e per rinnovare il Consiglio Comunale. Oltre a Siracusa, seggi aperti domani dalle 7 alle 23, Apriolo, Portopalo, Buccheri, Buscemi, Carlentini e Palazzolo. Nel capoluogo sono 103.213 gli elettori, compresi i residenti all'estero, chiamati alle urne domenica. Più numerose le donne 53.563, mentre gli uomini sono 49.650. In questi numeri sono compresi anche i 135 elettori, 35 maschi e 100 femmine, cittadini comunitari che hanno chiesto di votare e che sono inseriti nelle cosiddette liste aggiuntive. Seggi aperti, dicevamo, dalle 7 alle 23, i candidati alla carica di sindaco sono 7, mentre le liste per eleggere 32 consiglieri comunali sono 19 con oltre 600 candidati. Delle 123 sezioni ripartite sul territorio comunale, 119 sono senza barriere architettoniche e una è ospedaliera, allocata all'Umberto I di via Testaferrata. Per esercitare il diritto di voto si deve esibire unitamente ad un documento di riconoscimento la tessera elettorale. Se la tessera elettorale è deteriorata, è possibile ottenere il duplicato dall'ufficio elettorale presentando una domanda e restituendo l'originale. In caso di smarrimento si può richiedere sempre allo stesso ufficio di via San Sebastiano 71 un duplicato o un attestato sostitutivo presentando una dichiarazione attestante allo smarrimento. Gli elettori che hanno gravi problemi di deambulazione o altri motivi di impedimento fisico possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un familiare o altro elettore iscritto nelle liste elettorali del comune di Siracusa. La nostra emittente seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle 23 di domani con ospiti studio e collegamenti esterni. Il presidente della regione ha adottato un'ordinanza con la quale ha rinnovato a tutti i comuni della regione siciliana l'ordine di raggiungere il 35% di raccolta differenziata. Con l'ordinanza è stato disposto anche il regolamento dal 1 ottobre 2018 dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo così ai comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati di oltre il 70% del quantitativo rispetto l'anno precedente. Ciò significa che è obbligatorio differenziare e attivare ogni misura per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Come già noto dal mese di novembre 2017 Siracusa è entrata dentro il sistema di raccolta differenziata porta a porta. Dal 9 maggio 2018 il comune di Siracusa conferisce la cosiddetta frazione organica all'impianto Sicula Compost. Secondo i dati dal mese di gennaio 2018 le percentuali di raccolta differenziata è stata del 10,22%, a febbraio l'8,57%, a marzo la percentuale di raccolta differenziata è stata invece del 10,56%, ad aprile è stata dell'11,98%, maggio la percentuale di differenziata è stata del 15,98%, nell'ultima settimana invece del mese di maggio 2018 la percentuale di raccolta differenziata è stata del 21,12%. Secondo le stime del gestore del servizio di igiene urbana la raccolta differenziata per le zone dove è stata avviata è pari al 42%. Per quanto riguarda la raccolta differenziata invece e comunque la raccolta dei rifiuti ci sono problemi a noto, gli operatori ecologici hanno incrociato le braccia, ci spiega tutto, non è la Volcan. Mastelli e sacchi intatti e pieni fuori dagli uscio e i netini costretti a riportare dentro casa la spazzatura. Tra l'altro ieri era l'unico momento da calendario per la non differenziata quindi adesso dovranno aspettare sette giorni per poterla smaltire. A dare lettura di questo sciopero è la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani a noto la Roma Costruzioni che si affida ad una nota per la stampa. Uno sciopero nato per il mancato pagamento della mensilità di aprile. Uno sciopero che ieri 8 giugno avrebbe potuto fare un passo indietro avendo la Roma Costruzioni SRL provveduto a completare tutti i pagamenti entro le 18 di giovedì. Non si comprende dunque la mancata revoca da parte delle organizzazioni sindacali invitate ad annullare la protesta e effettuare il servizio di raccolta come da calendario evitando così di creare disagi all'utenza. Una situazione che amareggia e che denota una mancanza di dialogo e di collaborazione tra le parti che penalizza soltanto i cittadini netini costretti stamattina a tenere i rifiuti in casa o conferirli presso le isole ecologiche. Auspichiamo un incontro costruttivo come già avvenuto in passato ribadendo che la ditta ad oggi ha espletato quanto era in suo dovere pagare la mensilità di aprile ed essere ancora in regola con quella di madre. Prevedendo il contratto di lavoro nazionale la retribuzione entro 15 giorni del mese successivo. E' questa la posizione dell'azienda cui nelle ultime ore si è aggiunto anche il post su un social network scritto dal sindaco di noto Corradon Bonfanti diretto ai cittadini. Comunico ai miei concittadini che l'8 giugno gli operatori della Roma Costruzioni in società attiva nella raccolta dei rifiuti sono in sciopero per tutta la giornata come previsto dal contratto e dalla legge saranno assicurati i servizi essenziali. Mi scuso per il disagio che sarà arrecato a tutti voi e per il danno di immagine che subirà la nostra città. Alcuni di voi si chiederanno perché i lavoratori sono in sciopero. In questo caso bisognerebbe approfondire bene perché una cosa è inconfutabile. Non vantano crediti, sono stati pagati dal loro datore di lavoro e fino all'ultima mensilità. Quindi tutto ciò non si spiega. Questo il comunicato che Corrado Bonfanti ha fatto alla città di Noto. La questione dei panificatori al centro di una polemica tra le associazioni di categoria e l'assessore regionale alle attività produttive Turano. Sentiamo perché. L'assessore regionale alle attività produttive Domenico Turano continua a sbagliare e questa è l'accusa della CNA, Confartigianato, Casa Artigiani, CLAI e Confesercenti che tornano a puntare il dito contro l'esponente del governo musumeci dopo aver emanato appena qualche giorno fa il nuovo decreto sulla panificazione in Sicilia. Ancora una volta l'assessore Turano affermano così le cinque organizzazioni di categoria mortifica gli interessi e le richieste degli operatori del settore, ignorando la rappresentanza sindacale. Il provvedimento firmato il 30 maggio ricalca il vecchio e contestato degreto con la unica eccezione rappresentata dalla sospensione della sua efficacia per il periodo che va dal 16 giugno al 30 settembre. Pur comprendendo e condividendo lo spirito della novità introdotta, tuonano le associazioni datoriali. La nuova formulazione di fatto espropria ai sindaci sostituendo le loro funzioni con una disposizione assessoriale che consente a tutte le amministrazioni di modificare o sospendere l'obbligo di chiusura dell'attività di panificazione nel periodo estivo quando è comprovata una maggiore affluenza di persone visitatorie. Resta aperta anche la vicenda legata alla violazione della normativa nazionale e a quella europea. Il riferimento è alla direttiva Bolkestein, il cui obiettivo è quello di favorire la libera circolazione dei servizi e l'abbattimento delle barriere tra i paesi. Il profilo di incostituzionalità sarà trattato in tempi brevi dai giudici amministrativi chiamati a pronunciarsi nell'emerito del ricorso. Eccoci giunta la seconda parte del telegiornale, parliamo di cronaca e parliamo dei controlli antidroga eseguiti dai carabinieri sul territorio del capoluogo. Continuano i controlli antidroga effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa per intensificare l'attività di prevenzione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. I numerosi controlli alla circolazione stradale sia in orari diurni che notturni hanno portato a cinque segnalazioni alla prefettura per detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, tutte nei confronti di giovani tra i 17 e i 30 anni sorpresi con le proprie autovetture e ciclomotori nei pressi delle zone della città già tristemente note per la continua e incessante attività di spaccio. I cinque giovani inoltre è stata ritirata la patente di guida, così come prevede il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. Tutti molto giovani, alcuni incensurati e altri già con precedenti di polizia, spesso ancora studenti o disoccupati, decidono comunque di spendere il proprio denaro, quello dei propri genitori, acquistando droga e andando ad alimentare l'indotto economico delle zone di spaccio della città, alcune delle quali recentemente disarticolate grazie a recenti operazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa. Ulteriori e più intensi controlli dei militari dell'arma, sia su strada che nelle zone di frequente spaccio, continueranno anche nei prossimi giorni. Ancora cronaca, stavolta a Pachino e a Davola continuano i controlli carabinieri, sono stati chiusi, pensate, uno studio odontoiatrico e un supermercato. Servizio. Nel corso dei servizi che i carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa svolgono periodicamente con il nucleo antisofisticazioni e sanità di Ragusa, sono state effettuate diverse ispezioni igienico-sanitarie che hanno permesso di accertare a Pachino un ambulatorio odontoiatrico sprovvisto dell'autorizzazione sanitaria, mentre a Davola un supermercato che presentava gravi carenze igienico-sanitarie, il titolare aveva anche attivato un deposito alimenti senza la prevista autorizzazione. A seguito delle attività condotte dai carabinieri, le autorità sanitarie competenti hanno emesso specifiche ordinanze con le quali hanno disposto la chiusura delle attività. Il valore dello studio odontoiatrico è di oltre 100.000 euro, mentre quello del supermercato e del deposito di alimenti si aggira intorno ai 200.000 euro. Ulteriori attività ispettive congiunte dei carabinieri del NAS e dei militari del Comando Provinciale di Siracusa sono previste nei prossimi giorni in tutto il territorio della provincia, in considerazione del grande afflusso turistico nella stagione estiva già in corso e perché i controlli alle attività e professioni sanitarie sono di primaria importanza per garantire la tutela di tutti coloro che necessitano di cure per la salute. A difesa del piano paesaggistico, Natura Sicula ha presentato un ricorso al TAR, sentiamo di cosa si tratta nel servizio. L'associazione Natura Sicula ha depositato al TAR di Catania un ricorso per l'annullamento parziale del decreto dell'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per l'approvazione definitiva del piano paesaggistico della provincia di Siracusa. Attraverso questo ricorso si contesta la legittimità di alcune norme di attuazione del piano regolatore e in particolare si parla dell'introduzione di una deroga generale arbitraria ai vincoli paesaggistici in favore delle opere militari e poi ancora la scelta di consentire la realizzazione di lidi, chioschi, ristoranti e depositi stagionali in aree costiere naturalistiche e archeologiche soggette a livello di tutela tre, cioè il massimo. E poi ancora la previsione della possibilità di installare pontili galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni in zone facenti parte dell'area marina protetta del Plemmirio. Nel complesso si tratta di prescrizioni introdotte sotto forma di emendamenti all'originaria versione del piano adottata nel 2012, che recano così una grave lesione dell'interesse e un'adeguata protezione di contesti paesaggistici di eccezionale valenza naturalistica e archeologica, in netto contrasto con gli obiettivi generali del piano stesso. Tra i beni interessati dalle prescrizioni del piano impugnate si ricorda da Augusta a Siracusa le zone di Capo Campolato, Capo Santa Croce, Punta Izzo, parte del Parco dell'Hangar, San Cusumano e Cava Sorcialo all'interno del sito di importanza comunitaria dei Monti Climiti, l'isolotto di Ognina e la costa meridionale del Fiordo di Ognina. E poi ancora Punta Asparano, Punta del Cane e una porzione dell'area marina protetta del Plemmirio, la spiaggia della Pizzuta o la spiaggia a nord dell'antica città greca di Eloro, contenente ancora le rovine del tempio dedicato a Demetra. Con la proposizione di questo ricorso, Natura Sicola e i comitati e le associazioni che sostengono l'iniziativa intendono contribuire alla difesa del valore della coerenza normativa e della concreta efficacia del piano paesaggistico di Siracusa. Puntata numero 200 per punta a capo, un traguardo importante con un ospite autorevole, il colonnello Luigi Grasso che è il comandante provinciale dei Carabinieri, tra poco dopo il telegiornale quindi la nuova puntata e la rubrica. Per quanto ci riguarda è tutto, noi ribadiamo il nostro appuntamento con l'informazione ma soprattutto con lo spoglio, quindi i risultati in diretta relativi alle elezioni amministrative nel capologo ma anche negli altri comuni chiamati al voto. Domani sera a partire dalle 23 sul canale 172 ma anche su Facebook potrete trovarci tranquillamente. L'appuntamento è riservato domani sera. Arrivederci. L'appuntamento è riservato domani.